Salve a tutti, in questo video vediamo come risolvere l'enigma del proiettore su Resident Evil Village. Stiamo parlando ovviamente del proiettore di casa Beneviento. Inserendo la pellicola si sbloccherà questa parte. Se noi proviamo a riprodurre il filmato però notiamo che c'è un problema perché dobbiamo ordinare correttamente le pellicole. Ecco qua vedete, il filmato non si riproduce. Adesso vi dico qual è l'ordine da seguire. Cominciamo subito. Al primo posto dobbiamo mettere i pupazzi. Al secondo posto invece dobbiamo piazzare il libro. Questo qua. Terzo posto ci va il neonato. Quarto posto ci va il carillon. E ovviamente al quinto posto la mano con l'anello. Conferma. Ed ecco che adesso il filmato viene riprodotto correttamente. Alla fine del filmato si sbloccherà un passaggio. Spero di essere stato utile. Un saluto a tutti.